E' una sentenza destinata a fare giurisprudenza, quella combinata dal Tribunale di Arezzo nei giorni scorsi nei confronti dei componenti del CDA e dei Revisori dei Conti di un'azienda responsabili, secondo i giudici, di aver causato un dissesto finanziario che aveva determinato il fallimento. Un buco di circa 5 milioni di euro per il quale il Tribunale di Arezzo ha condannato CVA e Revisori Legali a risarcire la società fallita di oltre 3 milioni e due i primi e 3 milioni i secondi, oltre gli interessi di legge. Una stangata a tutti gli effetti, una sentenza che mette in chiaro l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale Aretino. Considerato le note vicende della vecchia Banca Etruria, questa sentenza potrebbe pesare non poco. Come sappiamo ci sono diversi filoni, tra cui l'azione di responsabilità nei confronti dei vecchi amministratori e revisori legali della vecchia BPL. Questo tipo di orientamento del Tribunale Aretino potrebbe portare, una volta ovviamente accertate le varie responsabilità, ad una condanna da svariati milioni di euro.